Benvenuti all'oroscopo di oggi, 9 settembre. Scopriamo insieme le previsioni per amore, carriera e salute segno per segno. Vediamo cosa riserva di speciale la giornata per te. Ariete. La settimana inizia con una nota di tensione. È fondamentale liberarsi dalle preoccupazioni e lasciare che la calma prende il sopravvento. Questo vi aiuterà a migliorare la situazione sentimentale con il partner e a renderla più serena. Se siete single, è il momento di osare e cogliere le opportunità che si presentano. La giornata lavorativa potrebbe essere impegnativa, ma è il momento di impegnarsi e dare il meglio di sé. Si prospetta una giornata davvero eccezionale, in cui avrete un'energia fuori dal comune, che vi permetterà di affrontare con slancio ogni sfida che vi si presenterà. Approfittate di questa carica positiva per recuperare terreno su progetti rimasti in sospeso o per portarvi avanti con nuovi obiettivi. È il momento giusto per pensare in grande, non accontentatevi delle piccole soddisfazioni, puntate a raggiungere traguardi più ambiziosi. Organizzatevi per il fine settimana, così da evitare malintesi o contrasti. Se siete in coppia, ci sarà una crescente intesa che vi spingerà a fare un passo importante nella relazione. Non abbiate paura di osare. TORO La calma e la serenità sono le parole d'ordine della giornata. Vi sentirete pieni di forza interiore e questo senso di serenità vi scalderà il cuore. La presenza della persona amata è il pilastro delle vostre certezze e della stabilità emotiva nella relazione. Se siete single, le energie a disposizione sono straordinarie, usatele per avvicinarvi ai vostri obiettivi. La forma fisica e mentale sarà buona e i pianeti vi infonderanno tanta sicurezza. I più intraprendenti potrebbero incontrare nuove opportunità amorose. Se in passato avete conosciuto una persona speciale ma non siete riusciti a portare avanti la relazione a causa dell'instabilità, non rimuginate su ciò che è andato perduto. Ormai ciò che è stato non può essere cambiato, ma il futuro è pieno di possibilità. Nuovi e scintillanti incontri amorosi vi aspettano, quindi preparatevi a vivere nuove emozioni. Non abbattetevi per il passato, le stelle indicano che il meglio deve ancora venire. Siate pronti ad aprire il vostro cuore a ciò che vi attende. Gemelli La giornata è piena di energia e passione. La fisicità diventerà il catalizzatore perfetto per ristabilire l'intesa di coppia che desiderate. Preparate tutto nei minimi dettagli per vivere una giornata indimenticabile e ricca di complicità. Se siete single, è il momento di concedersi un completo relax e godere della giornata. La fortuna sarà la vostra alleata più preziosa e vi permetterà di fare incontri interessanti. La vostra routine potrebbe subire uno scossone grazie a notizie inaspettate che arriveranno nel corso della giornata. Questi cambiamenti, pur sorprendendovi, vi aiuteranno a uscire dalla monotonia e ad affrontare il futuro con rinnovata energia. Da qui alla fine dell'anno, vi attende un periodo particolarmente movimentato, con tanti progetti da portare a termine e nuove esperienze da vivere. Non lasciatevi sfuggire l'occasione di trasformare questa giornata in una svolta, magari iniziando con un cambio di look o rinnovando il vostro stile. Un taglio di capelli o un guardaroba aggiornato potrebbero fare miracoli per il vostro umore e la vostra autostima. Cancro Il lunedì è un giorno discretamente positivo sia in amore che nel lavoro. Dedicate del tempo esclusivo alla coppia e concedetevi momenti solo per voi. Se possibile, regalatevi una serata speciale da gustare lentamente, in piena intimità con chi amate. Se siete single, potreste avere l'occasione di incontrare un amore duraturo. Siate pronti a cambiare e a lasciar andare le situazioni lavorative che non offrono più gratificazioni. Dopo un inizio settimana davvero frenetico, è arrivato il momento di rallentare e prendere le cose con più calma. Gli impegni degli ultimi giorni vi hanno travolto, ma ora potrete finalmente concedervi una pausa. Rallentate e godetevi un po' di tranquillità, ve lo meritate. Entro la fine della settimana, potreste ritrovarvi coinvolti in attività come il cambio di stagione del guardaroba o le classiche pulizie domestiche. Anche se non si tratta di impegni entusiasmanti, sarà gratificante portare a termine questi compiti. E se siete tra i fortunati che stanno per partire per una vacanza fuori stagione, preparatevi a staccare davvero la spine e godervi ogni istante. Leone La settimana inizia con una routine familiare, ma è il momento di impegnarsi a seguire i buoni propositi in amore. Evitate di farvi condizionare da dubbi o incertezze e concentratevi sul rafforzare il legame di coppia. Questo vi darà un profondo equilibrio interiore e renderà la vita insieme a chi amate più armoniosa. Nel tardo pomeriggio o in serata, potreste ricevere una bella notizia. Se siete single, lasciate che Venere vi guidi verso i desideri del cuore e siate aperti a nuove prospettive sentimentali. Se state aspettando una risposta o l'esito di un progetto, potrebbe essere il giorno giusto per ricevere buone notizie. Tuttavia, alcune ore della giornata potrebbero risultare un po' faticose, specialmente se vi ritrovate a spostarvi sui mezzi pubblici o affrontare una mattinata impegnativa. Non scoraggiatevi, la serata sarà tutta vostra e avrete finalmente modo di rilassarvi, magari con un buon libro o davanti a una serie televisiva che amate. Cercate di staccare completamente la spina per recuperare energie e ritrovare la vostra consueta vitalità. Vergine L'arrivo di mercurio nel vostro segno potrebbe portare una certa stanchezza, ma non lasciatevi scoraggiare. All'inizio potreste apparire distaccati nei confronti del partner, ma una volta superato questo momento, saprete mostrare tutta la vostra sensualità. Lasciate andare i pensieri e fatevi trasportare dagli eventi, senza pensare in negativo. Se siete single, potreste incappare in qualche delusione, ma non prendetela sul personale e valutate sempre se vale davvero la pena preoccuparsi. In amore, le stelle sono dalla vostra parte e vi invitano a fare progetti a lungo termine. Se state pensando a un passo importante come il matrimonio o una convivenza, questo è il momento ideale per pianificare il futuro insieme al vostro partner. Ma non tutto sarà semplice, ci saranno sfide da affrontare, sia nella vita privata che professionale. Vi serviranno molta resilienza e perseveranza per superare i momenti difficili, ma sappiate che tutto il vostro impegno sarà ripagato. La giornata si concluderà con una sorpresa, un messaggio o una chiamata inaspettata potrebbero portarvi notizie importanti che cambieranno le vostre prospettive. Bilancia La giornata si prospetta piena di energia e vitalità, perfetta per dare inizio a nuove avventure. In ambito amoroso, sensualità e passione domineranno la giornata, il consiglio è di trascorrerla con chi vi sta a cuore, godendovi momenti di leggerezza e divertimento. Single, numerosi saranno gli incontri interessanti che vi attendono, pronti a darvi lo stimolo per nuovi percorsi sentimentali. Sul lavoro, le soddisfazioni non mancheranno e gli impegni saranno molti, ma altrettanto gratificanti. Sul piano professionale, potreste trovarvi in una situazione di conflitto con un collega o un superiore. Questo malessere vi spinge a desiderare un cambiamento, ma al momento non vi è possibile perché avete bisogno di stabilità economica. La chiave è muoversi con astuzia e pazienza, procedete un passo alla volta, esplorando nuove possibilità senza agire impulsivamente. La luna nel vostro segno vi renderà particolarmente sensibili e potreste sentirvi più lunatici del solito. Ascoltate le vostre emozioni, ma cercate di non farvi sopraffare da esse. Un po' di riflessione vi aiuterà a trovare la strada giusta da seguire. Scorpione La settimana inizierà in modo piuttosto tranquillo, scandita da una routine che vi accompagnerà per gran parte della giornata. In amore, la situazione resterà stabile, senza particolari novità. Tuttavia, potrebbe essere il momento giusto per appianare qualche divergenza con il partner o un familiare. Un piccolo compromesso potrebbe fare la differenza. Single Le stelle vi infonderanno un fascino irresistibile che renderà più semplice attirare l'attenzione di chi vi interessa. Sul fronte lavorativo, dovrete affrontare un avversario astuto, ma con la giusta determinazione dimostrerete a tutti il vostro valore. Oroscopo intenso per chi è alla ricerca dell'amore o ha una persona speciale in mente. Le relazioni potrebbero attraversare una fase di maturazione, c'è chi si sente più sicuro e pronto a fare un passo avanti, ma anche chi nutre dei dubbi e considera l'idea di porre fine al rapporto. Prima di prendere una decisione così drastica, riflettete attentamente e valutate tutte le opzioni a vostra disposizione. Non fatevi travolgere dalle emozioni del momento, agite con saggezza e cercate di capire cosa sia davvero meglio per voi. Potreste scoprire che la pazienza e la riflessione portano soluzioni inaspettate e più equilibrate. Sagittario Il lunedì si prospetta ottimo, grazie alla favorevole influenza della luna nel vostro segno. In amore, i progetti lasciati in sospeso finalmente prenderanno forma, portando una ventata di freschezza nella coppia. Non lasciatevi scoraggiare dalle critiche altrui e mantenete la fiducia in voi stessi. In ambito familiare, una persona che amate tantissimo presto vi darà un'enorme soddisfazione. Single Le sorprese sono più vicine di quanto immaginate, mantenete la fiducia e siate aperti a nuove prospettive. Guerrieri Sarà una giornata ricca di occasioni per uscire e socializzare, ma fate attenzione alle spese. Le vostre finanze non sono in condizioni ottimali, quindi dovrete resistere alla tentazione di fare shopping o concedervi qualche lusso. Una persona vicina potrebbe chiedervi un favore, e anche se le vostre risorse sono limitate, non rifiutatela. Si tratta di qualcosa di importante per lei, e il vostro aiuto potrebbe fare la differenza. Ricordate che, nonostante le difficoltà economiche, la generosità e il sostegno reciproco sono valori fondamentali per il vostro benessere emotivo. Capricorno La giornata di lunedì potrebbe rivelarsi piuttosto impegnativa e sfibrante. Sul fronte amoroso, ci saranno tensioni difficili da risolvere, pertanto è importante mantenere la calma e capire dove avete sbagliato. Essere pazienti e saper fare un passo indietro aiuterà a ripristinare l'armonia e la fiducia reciproca. Single Evitate di farvi assalire dai dubbi e vivete il momento con maggiore leggerezza. In ambito lavorativo, la stanchezza si farà sentire, ma cercate di affrontarla con un approccio organizzato. Preparatevi a una giornata particolarmente densa di impegni. Dovrete gestire una serie di compiti e responsabilità che vi terranno occupati fino a sera, lasciandovi esausti. Tuttavia, se riuscirete a mantenere il controllo e a organizzarvi bene, riuscirete a portare a termine tutto con successo. Di recente potreste aver notato qualche cambiamento nel vostro corpo, magari un aumento di peso che vi ha sorpreso. Non preoccupatevi troppo e, soprattutto, non fate diete drastiche. Trovate invece un equilibrio, sia nell'alimentazione che nello stile di vita, e cercate di essere più attivi, soprattutto se il vostro lavoro vi costringe a stare spesso seduti. Acquario Il lunedì sarà caratterizzato da un'atmosfera serena, che vi permetterà di affrontare la giornata con il sorriso. In amore, supererete eventuali tensioni con il partner grazie alla vostra naturale capacità di dialogare con dolcezza e in totale sincerità. Sarà un giorno in cui vi lascerete trasportare dalle emozioni e dalla passione. Single, nuove conoscenze si affacceranno all'orizzonte, valutate attentamente se è il caso di approfondire qualche nuova relazione. In questo giovedì potreste avvertire un forte desiderio di stare per conto vostro, evitando il contatto con gli altri. La mente vi porterà a riflettere su ciò che avete vissuto durante l'estate, ma è ora di guardare avanti e voltare pagina. Alcuni di voi saranno in attesa di una pausa dal lavoro, e finalmente entro il weekend potrete tirare un sospiro di sollievo. Le vostre aspettative si realizzeranno presto e quello che stavate cercando arriverà al momento giusto. Non abbiate fretta, il meglio sta per arrivare, e la pazienza sarà premiata con risultati tangibili. Pesci Il lunedì inizierà sotto il migliore dei presagi, promettendo una giornata perfetta per costruire solide basi per il resto della settimana. In amore, la sintonia con il partner sarà ai massimi livelli, dialogo aperto e profonda comprensione vi aiuteranno a rafforzare il legame. Single, non abbiate timori, la fiducia in voi stessi vi porterà lontano, aprendo la strada a nuove opportunità. Sul lavoro, seguite il vostro intuito e non fatevi influenzare dalle decisioni altrui, la vostra capacità di valutazione sarà la chiave per raggiungere obiettivi importanti. La giornata del 9 settembre si presenta piuttosto turbolenta. Al mattino potreste sentirvi privi di energia e non avere alcuna voglia di uscire dal letto, ma le circostanze vi costringeranno a farlo. Dovrete anche fare i conti con la necessità di cambiare alcune abitudini, soprattutto se siete inclini a fare le ore piccole. In famiglia potrebbero sorgere tensioni e incomprensioni che rischieranno di turbarvi, ma cercate di non farvi influenzare troppo dalle critiche altrui. In fondo, ciò che conta è mantenere un equilibrio interiore e non lasciarsi abbattere dalle parole degli altri. Affrontate la giornata con coraggio e determinazione.